Buon senso e prudenza restano le parole chiave anche nel 2022. L'allarme contagi da Covid-19 torna a far paura. Nell'ultima settimana a Pescarei Provincia il numero dei casi positivi è aumentato in maniera esponenziale. Il sindaco Carlo Masci chiede la riapertura del palafiere per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale. Purtroppo questa situazione in qualche modo l'avevo prevista, tant'è che noi abbiamo annullato tutte le manifestazioni già da tempo. Soprattutto io ho fatto appelli continui alla cittadinanza per evitare assembramenti, incontri, perché in questo periodo natalizio naturalmente ci si incontra e quindi il discorso doveva essere limitato ai parenti più stretti, ai familiari. Perché? Perché i contagi stanno aumentando in maniera esponenziale. Sta succedendo quello che è successo il mese scorso in Europa praticamente. È arrivata anche da noi la variante Omicron, che è molto contagiosa. Meno male che non produce effetti gravi, almeno nei confronti di coloro che sono vaccinati. Però l'attenzione deve essere massima, perché se aumentano i numeri in percentuale, aumentano anche coloro che possono subire effetti gravi dal Covid. Quindi ho interpellato Danelli per chiedere la disponibilità del palafiere. Nuovamente, visto che la ASL tre giorni fa mi ha chiesto spazi per poter aprire un nuovo centro vaccinale oltre quello che c'è adesso alla stazione di Porta Nuova. Danelli si è mostrato, come al solito, disponibilissimo. Stiamo verificando le condizioni, ma credo che in brevissimo tempo noi metteremo a disposizione della ASL uno spazio di circa 1000-1500 metri quadrati lì al palafiere, al piano superiore rispetto a quello che invece era al piano inferiore e che è stato chiuso a settembre. Poi l'ASL si organizzerà con i medici, con il personale sanitario per attivare il secondo centro a Pescara in tempi brevissimi. Un buon auspicio per il 2022, qual è? Intanto la città si muove. La città è sempre molto operativa, ci sono tante attività in corso, la ripresa economica c'è. Purtroppo questo fine anno ha inciso molto sui locali, sulle attività di intrattenimento, sui servizi, sono attività che comunque garantiscono un'economia importante nella nostra città e quindi una parte del PIL lo abbiamo perso e questo per noi è fonte di grande amarezza e rammarico per le persone ovviamente che non sono state impegnate, per coloro che non hanno potuto lavorare, però il dato reale in questo momento era proteggere i cittadini e quindi un contenimento delle attività è stato giustificato.